Musica Buongiorno cadetti sono Eli Capri e oggi siamo qua per parlare della beta di Uncharted 4 La fine di un ladro La beta multiplayer arriverà sulla Playstation 4 dal 4 dicembre al 13 di dicembre Questa sarà disponibile solamente alle persone che avranno preordinato o comprato la versione di Uncharted Ovvero la collection, quella che contiene i primi tre capitoli della saga Io volevo mettervi di sottofondo questo gameplay che state vedendo adesso e parlarvi delle caratteristiche di questo gameplay Allora innanzitutto una delle grandi novità che sono state aggiunte è Radar come potete vedere adesso E si comparirà sul radar quando verranno usate armi da fuoco come tutti gli spara tutto Come anche nei vecchi capitoli verranno postate delle informazioni sugli aggiornamenti dello stato del gioco E alcuni sondaggi per i giocatori e questo avverrà quasi ogni giorno Ogni volta che accederete al multiplayer appariranno delle nuove sfide che se portate a termine faranno guadagnare delle reliquie Queste reliquie potranno essere usate per comprare dei nuovi oggetti nel negozio Per ogni personaggio sono disponibili tantissime opzioni di personalizzazione Compresi gli outfit, le espressioni e i cappellini Le reliquie di cui abbiamo parlato pochi secondi fa si guadagneranno anche uccidendo i giocatori avversari E' possibile acquistare gli oggetti accedendo al negozio dalla partita senza dover uscire Questa secondo me è una feature molto importante perché almeno mentre saremo in partita potremo scegliere degli oggetti da comprare Che ci serviranno subito e non aspettare di finire la partita per poi comprarli Questa beta avrà solamente due mappe multiplayer Mentre il gioco avrà otto mappe Secondo me sono poche E ve la sto dicendo una persona che ha amato tutti i capitoli di Uncharted Tranne l'uno perché devo ancora giocarlo Sì lo so sono un guaglione Spero che possano bastare anche essendo solo otto Sicuramente ci sarà il Season Pass di cui ha parlato veramente niente Quindi parliamo di altro Lo spawn dei giocatori non è casuale ma tiene conto di diversi elementi Poi 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 nessun progresso fatto durante la beta verrà trasferito nel gioco finale Capito ragazzi quindi se voi arriverete a livello X dovrete ripartire da zero quando avrete il gioco finale E già questo è molto utile Il tempo limite di ogni partita è di 12 minuti e l'obiettivo di uccisioni è 35 Rispetto alla cinquantina di kill se non sbaglio degli scorsi Uncharted Non vorrei sbagliarmi ma ricordo un 50 Vagamento un 50 non mi ricordo perché Correggetemi se sbaglio ragazzi Subito è subito Subito scrivere Poi altre informazioni che sto leggendo è che ci saranno gli Uncharted Point Che potranno essere usati per acquistare degli oggetti specifici Ci sono le microtransazioni in questo gioco quindi Gli Uncharted Point potranno essere quasi sicuramente comprati tramite il Playstation Store E vi do un'altra informazione ma diciamo abbastanza superflua sul fatto che la beta di Uncharted 4 ovviamente Sta parlando di questo e non di Call of Duty Peserà 7 GB Tenetevi pronti a scaricarla come vi ho già detto per il 4 dicembre quando inizierà la prova di questa beta Durerà fino al 13 come vi ho già detto Spero che vi siate goduti un po' di questo gameplay Non volevo spoilerarvi fin troppo ma spero che vi sia veramente piaciuto Noi ci vediamo in un prossimo video Io spero di riuscire a scroccare da questa beta Così da avere la possibilità di provarlo La vedo veramente dura ragazzi La vedo dura Se voi avete qualche codice in più anche se la vedo dura anche per questo Ragazzi cioè contattatemi subito La prima opzione no? Dare codici a Elie Gabri Anche se è solo una beta lo so è una beta ma io ci tengo veramente molto Noi ci vediamo nel prossimo video Lasciate un like, commentate, condividete Mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete Perché ripeterlo due volte serve a memorizzarlo più eh No eh Ok Rompete le righe